Allora, Forza Nuova, questa sera è fuori dalla scuola Bellavitis di Udine, nel quartiere di Via Riccardo di Giusto. In questa scuola qua, esattamente in queste settimane, è stato fatto, è stato promulgato un corso per sole donne islamiche di lingua e cultura italiana. Ebbene, quello che è salato fuori da questo corso è che queste donne, queste signore, hanno portato avanti una richiesta molto particolare, è esattamente quella di, fra le tante cose, di istituire delle palestre o dei luoghi di attività fisica esclusivamente per sole donne islamiche, come è loro cultura. Quello che noi riteniamo sia doveroso fare, sia doveroso dire, è che già l'anno scorso a Venezia è stata avanzata un'ipotesi del genere, è esattamente quella di istituire una piscina pubblica esclusivamente per donne islamiche. E questo ora è stato trasportato qua a Udine in altra chiave. Sono delle piccole proposte, delle piccole situazioni che però ci fanno capire che effettivamente il vento sta cambiando. Noi vogliamo veramente rappresentare come movimento politico l'unica vanguardia di difesa di quelle che sono le consuetudini, le identità e i paletti fondamentali della convivenza nel suono italiano. Ecco perché quello che vogliamo dire, noi vogliamo proporre e soprattutto partendo dai quartieri come questo, un quartiere popolare, di dialogare, iniziare a rapportarci con noi, a confrontarci, perché Forza Nuova è veramente l'unica forza politica che salvaguardia queste tematiche. Quindi partendo da questa situazione noi vogliamo essere presenti su tutto il territorio per essere il punto di riferimento.